Sono Eliana Stefanoni, lavoro alla formazione continua nel Dipartimento di Economia Aziendale, Sanità e Sociale. Sono qui per raccontarvi chi siamo e che cosa facciamo. Io in particolare mi occupo di organizzazione e di risorse. Il nostro focus è un'attenzione particolare a quello che sono le esigenze del territorio e il mondo del lavoro e questo significa fondamentalmente essere in costante ascolto di quelle che sono le evoluzioni della società e del mondo del lavoro. Le nostre parole chiave sono flessibilità che significa offrire la concreta possibilità ai nostri partecipanti di costruire dei percorsi di formazione che siano personalizzabili e modulari in modo tale da poterli seguire durante tutta l'evoluzione della loro vita professionale. La seconda parola chiave è interdisciplinarietà. Perché? Perché la complessità del mondo moderno ci impone di sviluppare uno sguardo sistemico e una capacità di avere un forte spirito critico per leggere la realtà intorno a noi. Questo lo possiamo ottenere attraverso la contaminazione dei saperi che ci permette di avere uno sguardo realmente a 360 gradi sulla formazione che vada oltre le conoscenze ma accompagni la vita del professionista durante tutto l'arco delle sue esigenze. Grazie. 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 Grazie.